Siamo veramente felicissime, quasi non ce l'aspettavamo, abbiamo lottato tanto per questi risultati e quindi siamo veramente felici. Tutta la squadra ci ha messo il cuore veramente in questa vertite e oggi mi dice di essere arrivata in semifinale. Adesso non è finita, domani giocate contro Leone e Sabrescia e poi già sappiamo che siete in semifinale. Che cosa vuole fare Chiara Valle in questa finalità? Sì, siamo molto deluse di questa partita oggi perché abbiamo dato veramente tutto. Sicuramente gli amici non ci hanno aiutato tanto, però domani è una nuova giornata e cerchiamo di fare meglio.